A un servo cinque, a un altro due, a un terzo servo un talento da sfruttare, fu la consegna che il padrone lasciò, quando dal lungo viaggio il padrone tornò, premiò i due primi servi che avevano guadagnato, e castigò il servo indolente. A un servo cinque, a un altro due, a un terzo servo un talento da sfruttare, fu la consegna che il padrone lasciò, quando dal lungo viaggio il padrone tornò, premiò i due primi servi che avevano guadagnato, e castigò il servo indolente. A un servo cinque, a un altro due, a un terzo servo un talento da sfruttare, anche, fu la consegna che il padrone lasciò, quando dal lungo viaggio il padrone tornò, premiò i due primi servi che avevano guadagnato, e castigò il servo indolente.